Bentornati senza luce nell'Helden Ring Wiki, quella serie di video nella quale vi spiegheremo dove trovare e come sfruttare al meglio ogni singolo oggetto del gioco. Ogni video sarà suddiviso in questa maniera. In primis andremo a parlare dell'oggetto in generale, poi andremo a vedere dove trovarlo, successivamente parleremo della sua lore se è presente, ed infine andremo a vedere una build che valorizzi al meglio l'utilità di questo oggetto. L'oggetto di oggi ragazzi è un oggetto davvero rarissimo, quello su cui tantissimi senza luce non hanno ancora messo le mani. La lama di magma ragazzi, una spada curva rarissima e bramata da tantissimi di voi. Una spada curva che fa sia danno fisico che danno da fuoco, richiede 9 a forza, 15 a destrezza e 16 a fede per essere brandita. Scale in C su forza e fede e D in destrezza. Generalmente questa è un'arma davvero interessante da utilizzare, soprattutto a causa della sua cenere di guerra, ma ne parleremo meglio nella sezione dedicata alla sua build. Intanto andiamo a vedere dove trovarla. Questo è un altro oggetto ragazzi che va farmato ed ha un drop rate davvero davvero basso. Dovremo recarci ad una grazia in cui ci sono dei nemici specifici vicini. Io sfruttavo questa zona di farming qui. Mi recavo al tempio di Eiglai, o Aiglai o Eiglai o... Insomma, vabbè, partivo da questa grazia qui in questo tempio e prendevo l'ascensore. Salendo con l'ascensore, state attenti perché a sinistra c'è un albinauro di quelli col canederlo nero che sono abbastanza rognosetti. Una volta abbattuto quello, dritto davanti a voi trovate un uomo serpente con una lama di magma e tornando indietro e scendendo delle scale sulla sinistra troverete un altro serpentone con una lama di magma ragazzi. E questo era il percorso di farming che facevo io. Mi raccomando, ricordatevi di far scendere l'ascensore in modo che quando tornate alla grazia del tempio, risalendo lo trovate già pronto. Perché proprio come succede a me che ho la memoria di un girino, poi dovevo aspettare che l'ascensore torni ed in succo perdiamo del tempo prezioso. Già un oggetto che non ci viene droppato facilmente, ancora perdiamo del tempo, il farming diventa lunghissimo. Fate questo percorso finché non droppate una lama di magma, io vi consiglio di averne due perché il moveset in dual è il migliore di tutti escludendo le lame gemelle perché danno quattro colpi saltando. E mentre mi dite come al solito dove avete farmato voi ragazzi andiamo a scoprire la descrizione di questo oggetto che recita Spada curva la cui lama è ricavata dalla lava del monte Gelmir. Armamento del popolo degli uomini serpente la cui tecnica di forgiatura è ignota agli umani, infligge danni da fuoco. Effettivamente non ne sappiamo molto, anzis è un'arma totalmente misteriosa. Sappiamo che è ricavata dalla lava che vediamo attorno a monte Gelmir o meglio nel monte Gelmir E sappiamo che è un armamento specifico degli uomini serpente. Cosa potremmo dire su questi uomini serpente? Relativamente poco, sappiamo che è una razza ibrida nata dal amore o meglio usufrutto di Daedicar e del dio serpente. In pratica il dio serpente ha creato una progenie sfruttando Daedicar E per quanto brutto sia ragazzi è nata questa razza che ha popolato il monte Gelmir e ci ha vissuto. Sappiamo ad esempio di uomini serpente che erano in grado di celare il loro originale aspetto per poter navigare nel mondo dell'interregno ma per lo più sono rimasti dentro al monte. E se volete scoprire di più su questa lama ragazzi iscrivetevi al canale, è gratificante per noi ed è gratis per voi, non vi costa assolutamente nulla come non vi costa nulla accendere la campanella per rimanere aggiornati tramite una comoda notifica ogni volta che carichiamo un nuovo video. E se volete supportarci a pieno qui sotto trovate i super grazie e gli abbonamenti che vi permettono di vedere i video in anteprima. Come ho deciso di creare una build sulle lame di magma? In primis ho deciso di usarne due per sfruttare il loro moveset in dual e l'attacco in salto da quattro colpi. Sono effettivamente delle lame cortissime, quindi ci dovrete prendere la mano ragazzi. Sono delle armi che non possiamo modificare, nascono e muoiono così e sfruttano la loro abilità unica, ossia pioggia marmatica. Ci permette di sferrare un colpo rotante coprendo di lava l'aria attorno all'esecutore. Premendo di nuovo eseguiamo un attacco supplementare. Questa è una cenere di guerra che ci permette di sciogliere uno o più nemici, un nemico grosso o più nemici piccoli e riuscire in questa maniera a fare un bel danno. Fa in ogni caso danno da fuoco e la lava ovviamente fa danno da fuoco. Quindi ci ritroviamo tra le mani due belle armi per concludere Elden Ring tranquillamente. Il set di armatura ragazzi è a scelta libera tranne per un unico pezzo, le piume nere di rapace che ci permettono di fare più danno con gli attacchi in salto e questo è importantissimo perché spade curve e lame gemelle fanno più attacchi in salto. In questo modo diamo 4 hit che fanno un danno maggiorato e grazie ai talismani li potenzieremo ancora di più. Andiamo a vedere quali talismani ho deciso di tenere addosso. Il primo è la scheggia di Alexander che aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità visto che comunque sfruttiamo un'abilità davvero davvero potente che fa un male cane ragazzi ho deciso di potenziarle il più possibile. Il secondo talismano è quello che va in combo con le piume nere di rapace ossia il talismano artiglio che potenzia gli attacchi in salto. In questa maniera i nostri salti sono ancora più letali. Terzo talismano ma non meno importante è l'amuleto scorpione del fuoco che aumenta l'attacco fuoco ma riduce la resistenza ai danni. Quarto talismano che va a risolvere il debuff dell'amuleto il talismano gran scudo del drago che incrementa enormemente la resistenza ai danni fisici. Questa build di per sé ragazzi è davvero davvero semplice e credo sia la più basilare che possiamo costruire con delle armi del genere. Visto che andiamo a sfruttare il fuoco l'amuleto scorpione del fuoco ci potenzia dunque la nostra cenere di guerra viene potenziata dall'amuleto scorpione di fuoco e dalla scheggia di Alexander. Sfruttiamo tantissimo gli attacchi in salto perché utilizziamo delle spade curve e dunque più maniere di rapace e talismano artiglio ed infine per mitigare il danno dell'amuleto scorpione del fuoco che riduce la resistenza ai danni andiamo ad indossare un talismano che ci dia più resistenza al danno fisico. È una build basilare si può creare qualcosa di più particolare ma questa è un'ottima base per iniziare a formare una build competitiva tra virgolette perché sono sicuro che con una build del genere e con i giusti pezzi d'armatura per arrivare alla stabilità necessaria riusciamo a creare qualcosa di unico e potente per finire Elden Ring. Come al solito prima di salutarci andiamo a fare un breve recap in un minuto. La lama di magma è un'arma davvero rara che possiamo trovare in Elden Ring nella zona del Monte Gelmir nello specifico se ci richiamo la razza a Tempio di Hagley potremo salire da un ascensore e trovare due uomini serpente da battere che potrebbero molto difficilmente tropparci questa lama. Una volta ottenute due potremo creare la build che le fa funzionare al meglio. Due lame di magma ragazzi, le piume nere di rapace per potenziare gli attacchi in salto, una scheggia di Alexander, un talismano artiglio, un amuleto scorpione del fuoco e un talismano gran scudo del drago. Questa è la build più basilare che potremo sfruttare per quest'arma che ci permette di utilizzare attacchi in salto e potenziare a bestia il danno della cenere di guerra e soprattutto del fuoco. Che dire ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto quanto tempo ci avete messo a farmare queste due fantastiche armi perché ragazzi, io considero di averne sempre due per coppia, soprattutto di queste che sono rare. Noi ci vediamo domani in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, è importantissimo per supportarci ed aiutarci a crescere e portarvi contenuti sempre più belli. Accendete la campanella per rimanere aggiornati su ogni video e vedere la nostra crescita e se volete supportarci ragazzi un bel mi piace, un commento, un super grazie e un abbonamento che vi permette di vedere il video in anteprima. Ciao a tutti!